Sempre più genitori si rivolgono a me perché i figli hanno difficoltà, perché i figli passano troppe ore sui libri, perché i figli sono lì che rinunciano al calcio, alla pallavolo, allo sport per ottenere buoni risultati nell'apprendimento, perché vedono che stanno ore e ore sui libri con risultati poi non proporzionali all'impegno che arriva e questo causa demotivazione, parità di autostima e ovviamente anche poca voglia di studiare. Ma posso dirvi, è come se noi nel 2023 avessimo voglia di andare a New York a nuoto, cioè ci sono degli strumenti purtroppo nell'ambito dell'apprendimento abbastanza vecchi come leggere e ripetere, mentre esistono delle nuove scoperte, nuove tra virgolette, delle neuroscienze sulla capacità dell'utilizzare meglio alcune aree del cervello che portano i ragazzi a divertirsi mentre studiano, a divertirsi mentre imparano. Ecco perché se sei genitore e voglia di dare uno strumento ai tuoi figli che serve per tutta la vita, tutta, tutta, tutta la vita, ti chiedo di pensarci, chiamami oppure iscrivi tuo figlio e fallo anche tu al mini corso di apprendimento, così capisci che ci sono delle strategie che lo motivano, perché quando imparano a studiare divertendosi i ragazzi si illuminano. Vi faccio un esempio, c'è stata una signora che mi chiama e mi dice guarda, iscrivo il mio corso al figlio però sabato e domenica, cioè venerdì e sabato riesce, domenica ha il suo compleanno e dobbiamo preparare insieme la festa. Il ragazzo di 14 anni, compieva 15 anni, ha detto va bene, tranquilla, domenica poi la recuperiamo, il mese dopo individualmente. Sabato mi manda un messaggio e mi dice guarda si sta divertendo troppo, può rimanere anche domani mattina? Certo, la festa iniziava alle 5 di pomeriggio, il ragazzo si è fermato fino alle 16.45. Capite, quando i ragazzi vedono che c'è un metodo che si può imparare e che si può imparare in modo più giocoso e più divertente, tutto fluisce in modo più rapido. Guardate qua, a fine corso i partecipanti hanno detto a questo ragazzo che i genitori sono stati longimiranti, sentite la risposta. Scusate la mia faccia stravolta, ero dopo un bel corsone. Ho detto dei genitori che è come se mi avessero fatto un regalo, cioè è come se fossi in debito, mi hanno regalato uno strumento che mi entra nella vita. Mi vuole più di un appartamento, hai ragione. In debito. Ringraziali dai. Basta un grazie. Sì, gli dicevano guarda i tuoi genitori sono stati bravi, ma guardate un ragazzo cosa mi ha scritto, non so se si vede. Allora, se queste cose le insegnasse la scuola e poi mi ha scritto, se tu fossi una prof i ragazzi supererebbero, aspetta che dal contrario non so ancora leggere, allora se tu fossi una prof i ragazzi avrebbero preso il diploma con 10. Questo me l'ha scritto un ragazzo il mese scorso, cioè capite? Cioè bellissimo. Guardate ancora, questa è una signora che ha frequentato con me il corso nel 2001, c'è scritto proprio correva l'anno 2001 giù di lì, poi ha fatto frequentare il corso al figlio, questo mi arriva la domenica, il messaggio del figlio, e pensate lui da domenica non aveva neanche frequentato il corso perché aveva la partita di calcio. Martedì, ecco qua. Cioè capite i risultati? Perché io vi parlo adesso, ve lo cerco anche qui sulla testimonianza, perché ve lo parlo con gli occhi pieni di luce, perché veramente per me la soddisfazione più bella è sapere... Eh, tutto bene, tutto bene. Vedete, sapere, la soddisfazione più bella è sapere che lascio il segno. Lei l'ha fatto con me 21 anni fa, cioè nel 2001, quindi 22 anni fa, e mi ha mandato il figlio adesso. Cioè, genitori, veramente, spendiamo tanti soldi incavolate, che servono poco. Imparare ad imparare, uno strumento che serve tutta, tutta la vita, che serve per sempre. E quindi te lo dico con entusiasmo, con amore, perché, come dire, ci metto davvero il cuore, ci metto davvero la competenza, ci metto davvero tutta me stessa per insegnare alle persone degli strumenti, per imparare ad imparare nel modo giusto. Perché quando non sappiamo e conosciamo delle strategie, cosa succede? Spesso ci demotiviamo e facciamo delle scelte di vita molto più morigerate, molto più, come dire, molto inferiori rispetto alle potenzialità che abbiamo. Proprio perché pensiamo di non avere le strategie e le capacità per poterlo fare. Ieri ho sentito una ragazza che è in quinta superiore ed è incasinatissima perché non riesce più a memorizzare per la maturità. E mi dice, le dico, ok, e dopo cosa farei? Andrò all'università, perché se fai il corso poi ti sarà molto utile anche per l'università. Sapete cosa mi ha risposto? Di certo no. Cioè, se sono messa così adesso, figuriamoci se continuo a studiare. Vale la pena davvero rinunciare perché non abbiamo il metodo giusto? Ti aspetto al minicorso, ti aspetto, chiamami anche, o ti aspetto a un minicorso di due ore e mezza per capire intanto già che con la strategia giusta arriva un risultato enorme. E te lo dico, tanto sai sentire. Ciao, 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 ciao.